C'è chi viene per curiosità, chi perché questo è il suo lavoro, altri perché sono collezionisti oppure realizzano lame per hobby. Ognuno ha un buon motivo per partecipare alla mostra nazionale dei coltelli e delle forbici di Frosolone. È senza dubbio una delle manifestazioni di settore più importanti a livello nazionale e rappresenta un'occasione per dire ancora una volta che questa grande tradizione artigianale non può scomparire. Al contrario, può rappresentare una grande opportunità di rilancio e il parere del sindaco Giovanni Cardegna. Non è solo oggetti tradizionali, qui è design, sono artisti, quindi questo confronto dovrebbe aiutarci a rilanciare un settore che negli ultimi anni fa fatica a rilanciarsi. Molti ci credono per tradizione, ma anche per il futuro, perché è un settore che può occupare giovani e speriamo che la Regione, le autorità generali, i piani di sviluppo prestino molta attenzione a questo settore. Tra gli ospiti della cerimonia inaugurale, il comandante della Legione Carabinieri del Molise, il generale di brigata Giovanni Pietro Barbano. A lui il compito di dare il via alla manifestazione con questo colpo di sciabola. Si tratta di una maestria, di una capacità unica che connota questo territorio, che ha apprezzato ormai a livello mondiale e che deve ricordare a tutti noi quanto è importante conservare questo genere di tradizioni e quanto è importante per la popolazione vivere questi aspetti con orgoglio. Nelle botteghe allestite nel centro storico sono rappresentate quasi tutte le regioni italiane. Si trova di tutto, dal Damasco della Val Camonica alle particolarissime lame della Sicilia, passando naturalmente per il traforato di Campobasso e gli sfilati e le zuave di Frosolone. Ma c'è anche chi impiega materiali ai limiti dell'incredibile. La lama è costruita da un rostro di pece spada, stagionato parecchi anni, altrimenti sarebbe... E niente, io ho cominciato per hobby, poi per i colori particolari e la stagionatura del rostro. Più viene stagionato e più i colori sono particolari. Fa ripuntati naturalmente anche sugli artigiani molisani e sulle loro apprezzate opere. Nelle loro botteghe creano veri e propri capolavori. Uno di questi, una croce pettorale, è stata donata a Papa Francesco durante la sua visita in Molise. Visto che lui dona molto alla gente, volevo fargli anche io un dono. E ho pensato a un crocifisso pettorale, una croce pettorale, e andai a parlare con Monsignor Bregantini. Lui subito fu entusiasta del fatto di fare questo regalo al Papa e così è avvenuta sta cosa.